Lorenzo, come procede la preparazione? Un impegno in più nelle gambe, come sta andando? Direi che procede bene, stiamo confermando i meccanismi che il mister l'anno scorso ci ha insegnato, quelli nuovi si stanno integrando bene, che loro stanno capendo piano piano quelli che sono i dettami tattici del mister, quindi direi che procede bene. Chiedo proprio la tua condizione, perché hai avuto una preparazione a metà, da un certo punto di vista hai preso questa botta, se ci puoi spiegare meglio cosa è stato e soprattutto ora se è tutto a posto. Ho preso la classica vecchietta, come si dice da noi, mi ha fatto un versamento sulla gamba, quindi ho avuto un po' di problemini, ho saltato la parte a Moena, però per fortuna adesso è tutto rientrato, ieri sono riuscito a mettere un po' di minuti nelle gambe, spero anche a Siviglia di fare lo stesso, quindi tutto è rientrato. Dal punto di vista della condizione, in una decina di giorni per la Cremonese, visto che anche Dodò ad esempio è arrivato più tardi, la Fiorentina avrà un terzino destro al top? Io penso di sì, anche Dodò si sta allenando sempre, quindi entrambi stiamo facendo quello che ci viene chiesto dal mister, dal preparatore atletico, quindi credo che per l'inizio della stagione ufficiale saremo pronti al 100%. Parlavi dei nuovi, Lorenzo, però tra i nuovi c'è anche il giovane Favasuli, che vediamo spesso, insomma il mister italiano gli dà grande attenzione, te come l'hai visto da compagno di reparto? Fava è uno che si impegna tanto, mi piace l'atteggiamento che ha perché è propositivo, dà sempre il massimo e poi è un ragazzo bravo, l'abbiamo preso un po' sotto la nostra ala protettrice, ci divertiamo con lui, è un tipo molto simpatico e in campo si fa sentire, è tosto ed è quello che serve ai ragazzi giovani. Torno sulla partita, ieri avete controllato il gioco, dominato, possesso palla, creato occasioni, avete al momento in amichevole un po' il problema dello scorso anno, cosa dovete migliorare ancora per passare in vantaggio? Perché poi queste sono squadre che si chiudono se non segni è complicato. Dobbiamo imparare a sbloccarla, a essere consapevoli del fatto che ogni minima occasione che ci capita può essere quella decisiva, dobbiamo pensare quando arriviamo davanti al portiere bisogna fare gol in tutti i modi, perché poi le partite magari si possano complicare, ma credo che sia semplicemente uno step che si fa con il passare dei giorni. Alla fine dei conti è solamente un anno che il mister è alla nostra guida, quindi Roma non è stata fatta in un giorno, di conseguenza sono mattoni che verranno messi con il passare del tempo e sono sicuro che in breve tempo riusciremo a colmare anche queste lacune. Io resto sullo stesso argomento, non sono arrivate le reti e con quelle chiaramente si vincono le partite, c'è però un dato particolare, 19 calcio d'angoli a favore della Ferentina in due partite, uno solo subito. Questo significa che qualcosa di buono lo stiamo facendo, in entrambe le partite che abbiamo fatto, se togliamo i primi 20 minuti contro il Galatasaray diciamo che siamo sempre stati nel metà campo della squadra avversaria, l'abbiamo schiacciato, credo che abbiamo fatto un buon gioco, magari le occasioni nitide sono state poche, però le potenziali occasioni sono state molte e credo che questo sia il punto da cui ripartire e andare avanti. Io volevo chiederti una curiosità sul sorteggio di Conference League, se ne parla tanto a Firenze, voi nello spogliatoio come l'avete presa questa sfida tra Tente e Cucaricchi? Onestamente ieri durante il sorteggio credo che quasi nessuno era davanti alla televisione a guardarlo, perché siamo liberi mentalmente, pensiamo giorno dopo giorno e quando dovremo affrontare chi sarà tra le due ci prepareremo. Sappiamo che nessuna sfida in Europa è facile, quindi che sia uno o che sia l'altro sarà un test importante, dove la Fiorentina dovrà dimostrare anche in Europa quello che fa in campionato. Ti credo l'ultima sul Betis, perché c'è anche tanto viola nel Betis, quindi intanto che partita è per voi perché è proprio l'ultimo test prima dell'inizio ufficiale e anche dal punto di vista dei calciatori ci sono vecchie conoscenze viola, se è particolare questo incrocio. Credo che l'annata fatta l'anno scorso dal Betis parli da sola, hanno una rosa fortissima, piena di giocatori importanti, giocatori che sono stati anche qua e credo che sia appunto il test più importante da quando abbiamo ricominciato questa stagione, che magari ci saprà dire qualcosa di più in merito a quello che è la nostra condizione e spero che vada nel migliore dei modi anche per dare fiducia al gruppo per cominciare al meglio il campionato.